Siamo in presenza del nuovo Nokia X700, il primo smartphone insieme al Nokia E600 che monta di serie il sistema operativo Simbananda. Vediamo che anche la classica confezione di Nokia è stata cambiata con questo scatolato più compatto che è decisamente più moderno e carino. Andiamo subito a vedere il contenuto della confezione dove troviamo ovviamente il device in versione black, le classiche informazioni con le garanzie, il caricabatterie con plug-in USB micro e scatolato con le cuffie in ear con jack standard a 3.5 e comandi per il lettore musicale. E infine il cavo USB per collegare il device con il PC e inoltre troveremo anche una micro SD da 8 GB inclusa che ora è dentro al device. Andiamo ad accenderlo e intanto vi mostro le caratteristiche esterne. Come potete vedere ampio schermo da 4 pollici con 360x640 pixel di risoluzione. Schermo AMOLED, davvero molto bello. Davanti frontalmente non troviamo più la seconda fotocamera che infatti è stata eliminata. E troviamo un unico tasto che è il tasto home. Sul lato destro troviamo i tasti per alzare ed abbassare il volume e il tasto scatto dedicato appunto alla fotocamera. Sul lato invece sinistro troviamo la slot per la micro SD. Perché infatti questo nuovo Nokia X7 00 non è dotato di memoria di massa ma solo di memoria telefonica da 350 MB. E può supportare fino a 32 GB appunto con le micro SD. E poi lo slot della sim. Qui molto particolare perché infatti basta cliccare e tirare e esce lo slot per la sim. Ogni volta che però facciamo questa operazione il telefono chiederà di essere riavviato come in questo caso. Vedete che si era già acceso. Sul retro invece troviamo la fotocamera da 8 megapixel senza autofocus ma con full focus. E poi il doppio flash LED. I materiali sono alluminio anodizzato con qualche parte in plastica per le antenne. Sul fondo il fondo è pulito troviamo solo il microfono mentre sopra troviamo l'ingresso per l'USB e ovviamente il caricabatterie. È un USB on the go quindi possiamo collegare qualsiasi chiavetta USB e possiamo eseguire il trasferimento di dati direttamente dall'USB al telefono. Poi ingresso per le cuffie da 3.5 quindi le cuffie standard e tasto di accensione che fa anche tasto per blocca e sblocca schermo. Infine troviamo le casse che sono molto belle dal punto di vista del design ma anche molto potenti. Dopo le andremo a vedere. Intanto si è acceso il device, si è riavviato e vediamo subito il sistema operativo Symbiananna con le cute aggiornate alla versione 4.7.3. Novità di Symbiananna come già detto sono le icone, icone nuove, più moderne e le home screen che a differenza del Nokia E6 nel X7 sono solo 3 e non 5 come appunto accadeva nel Nokia E600. Ovviamente tutte completamente modificabili tramite i widget. Andiamo a vedere la parte telefonica. Telefono che supporta ovviamente qualsiasi tipo di rete è quadriband, ha il wifi e anche il bluetooth 3.0. Altra novità del Nokia X700. Parte telefonica ovviamente ottima come c'era sempre abituato Nokia. Nessun problema durante le telefonate, telefonate chiare e molto precise e anche la ricezione prende davvero ovunque. Non abbiamo mai avuto problemi. Ovviamente anche qui è presente la possibilità del contatto rapido, quindi basta cliccare sulle lettere per trovare il proprio contatto, ma ovviamente c'è anche l'inconcina per accedere direttamente alla rubrica. Questo nuovo Nokia X700 è un telefono veramente adatto alla multimedialità. Multimedialità che è il punto forte del device e per dimostrarvelo entro subito nel lettore musicale. Vi faccio vedere come prima cosa come lavora bene l'acceleratore grafico. Infatti questo nuovo X700 ha un processore da 680 MHz con acceleratore grafico 2D 3D con RAM da 256 MB. Guardate appunto come è fluida lo scorrimento delle copertine degli album e l'effetto senza nessun tipo di intoppo o problema. Ma andiamo subito ad ascoltare un brano così vi faccio sentire la qualità delle casse. Casse buone, ottime, suono chiaro, fluido. Quindi lettore musicale promosso. Continuiamo e andiamo a vedere alcune foto che abbiamo scattato con questo X7. Per fare ciò entriamo nella galleria e vi faccio appunto vedere alcune foto. Vi ripeto che ha una fotocamera da 8 megapixel senza autofocus ma con full focus. Quindi le foto ravvicinate non saranno nitide e ben definite come in presenza dell'autofocus. Ma comunque il buon risultato è sicuramente garantito dagli 8 megapixel. Troverete comunque tutte le immagini sulla recensione nel nostro blog. Quindi vi rimando a quelle per avere un'idea di come scatta le foto questo Nokia X7. Video, anche quelli molto belli in quanto il Nokia X7 li gira in HD a 720p. Sia diciamo i video che giriamo ma davvero ottimi anche i video che possiamo inserire all'interno del device appunto grazie alla ampia memoria data dalla microSD. Infatti lo schermo AMOLED conferisce una grafica davvero molto precisa, definita e permette con i suoi 4 pollici di potersi godere senza particolari problemi e nel comfort qualsiasi tipo di video. Continuiamo e andiamo nel browser. Proviamo a entrare nel browser e qui purtroppo la prima nota stonata. Infatti, è sicuramente un browser migliorato rispetto all'ultima versione. Purtroppo però a nostro parere non è ancora pronta per competere con i concorrenti. Infatti adesso entriamo nel blog della Nocchioteca, lo mettiamo in orizzontale e vediamo come nonostante siamo sotto copertura wifi per poter navigare fluidamente all'interno del sito dobbiamo aspettare il completamento della carica della pagina. Ma anche una volta caricata diciamo che non è proprio veloce poter fare il pitch to zoom all'interno della pagina. Quindi speriamo che con qualche aggiornamento Nokia riesca a risolvere questo problema. Come vedete fa fatica a fare il pitch to zoom. Usciamo dal browser e andiamo a vedere l'applicazione social, che è la seconda diciamo un po' notastonata. Social è l'applicazione che permette appunto di collegarsi alle proprie community come Facebook e Twitter. Il problema è che questa applicazione rende tutto molto macchinoso. Spero appunto che sempre con qualche aggiornamento si riesca a velocizzare questo passaggio. Andiamo, vi faccio vedere un'altra grande novità di questo Nokia X7 e per farlo entriamo nei messaggi. Andiamo a comporre un nuovo messaggio ed ecco qua, come avrete visto anche prima nel browser, è comparsa la tastiera QWERTY. La mia tastiera QWERTY in versione portrait, che devo dire all'inizio è un po' scomoda. Infatti a mio parere è diciamo piena di tasti, troppi. Nonostante lo schermo sia molto grande, si fa fatica all'inizio a digitare correttamente i tasti che vogliamo appunto selezionare. Spesso si va a sconfinare in altri tasti e quindi questo all'inizio rende la digitazione un po' lenta. Ma tutto sommato è solo da fare pratica. Ovviamente se lo mettiamo in orizzontale compare la classica tastiera QWERTY. Quindi questa è l'altra novità di questo Nokia X7 00. Andiamo velocemente, vi faccio vedere velocemente le email per chiudere l'argomento della messaggistica. E ovviamente questo Nokia vede le email in HTML. E grazie sempre all'ottimo schermo da 4 pollici, davvero la visualizzazione è molto confortevole. Ovviamente il pincio zoom ci aiuta anche a visualizzare quelle scritte magari un po' troppo piccole. Quindi lettura delle email confortevole e ottima. Torniamo un attimo alla multimedialità perché questo Nokia X7 non finisce qui di stupire. Infatti se entriamo nella multimedialità dal punto di vista dei giochi, troviamo già preinstallati due giochi come Asphalt 5 e Galaxy on Fire. Sono due giochi davvero belli, divertenti soprattutto, grazie a questo schermo da 4 pollici e anche dal design stesso del telefono che permette davvero una maneggevolezza per il gioco. Quindi ovviamente poi si possono scaricare gratuitamente molti giochi dall'Ovi Store. Quindi l'ampia scelta e il divertimento con l'X700 è assicurato. È presente anche ovviamente il GPS integrato e quindi il mappe. Mappe gratuite di Ovi che come al solito, diciamo come è normale che sia, al primo fix è un po' lento ma una volta fatto il primo fix vi assicuro che è molto veloce. In questo caso siamo all'interno di una casa, quindi non possiamo pretendere che ci trovi subito, ma una volta fuori vi assicuro che la localizzazione è davvero molto veloce. Vi faccio intanto vedere il Tax Manager, vi faccio vedere come con 6 applicazioni aperte, quindi mappe, il gioco che abbiamo aperto prima, il menu, vabbè ovviamente, l'email e l'editor messaggi e infine il lettore musicale, il nostro X6 non risente assolutamente di alcun rallentamento. Quindi, dal punto di vista del processore, davvero ottimo questo X7. Cosa dire di questo Nokia X700? È sicuramente per una clientela che punta tutto sulla multimedialità. Infatti, come già detto, giochi, foto, lettore musicale e soprattutto video, quindi anche la possibilità di vedere video messi dal computer, con uno schermo così grande è veramente una comodità pazzesca. Schermo molto bello, ma un altro punto a favore di questo telefono è sicuramente il design. Il design che è molto bello, molto moderno e nonostante il peso è buono perché pesa solo 146 grammi, ma la particolarità è che è davvero, davvero molto sottile. Se noi lo mettiamo in confronto con un E7, guardate qui come cambia la storia. Quindi in tasca, scusate, non si sente e quindi design pazzesco. Per qualsiasi curiosità e se ne volete sapere di più, vi rimando comunque alla recensione scritta che potrete trovare sul nostro blog. Per ora è tutto, a presto!